L'Agenzia regionale per il sostegno all'agricoltura Argea è dal 16 ottobre scorso organismo pagatore regionale. Da tale data e al 31 dicembre 2020, comunica l'assessore regionale all'agricoltura Gabriella Murgia, l'agenzia ha effettuato pagamenti relativi al programma di sviluppo rurale per quasi 62 milioni di euro e circa 14 mila domande. Oltre 57 milioni sono stati erogati per le 13.345 domande per l'anticipazione dell'85% per le misure a superficie, difesa del suolo, biologico e, a capo, benessere degli animali. Quasi 2 milioni per le 61 domande per lo stato di avanzamento lavori e saldo di misure strutturali. 486 domande presentate da agricoltori e allevatori per le misure a superficie e capo, difesa del suolo, biologico, indennità compensativa e 214 e una domanda per le spese di funzionamento di un gal sono state complessivamente soddisfatte con l'assegnazione di quasi 2 milioni e 600 mila euro. A queste cifre vanno sommati i 149 milioni circa erogati da AGEA nel 2020, portando il totale corrisposto agli agricoltori sardi nello scorso anno a 210 milioni e 616 mila euro.